ciao a tutti ragazzi questa sera per capodanno voglio fare un confronto tra un lupo p1 e un simulatore cobra 1 della di blasio elio adesso vado accendere il primo petardo cioè lupo 1 e poi proseguiremo con il secondo petardo adesso andiamo a sparare il secondo grazie per le visualizzazioni mettete like e condividete ciao